Cavedanelli dunque per i cavedanelli l'approccio è questo tu li lanci vicino e vieni via piuttosto veloce a galla guarda lì ce n'è uno guarda lì hai visto? eh ma quando fanno così è finita o lo freghi subito sulla battuta o altrimenti ti dice ciao vedi che però funziona anche il fatto di star fermo e fare qualche lancio loro arrivano perchè sono curiosi come delle cibo però fregarli con quest'acqua qua non è così semplice o lo prendi proprio di sorpresa possiamo avere qualche chance in più oggi con le carpe se ne troviamo una o con i barbi ma questi non sono posti da barbi vediamo un po' ah niente niente solo un blando di cresse non è così semplice non è così semplice eh sì qui ci sono sanno dove mettersi con i barbi ma uno che non mi Grazie a tutti. Sono anche fin troppo maturi. Guardate le mani subito. Hai visto la scalaturale? Guardate le mani subito. Guardate le mani subito. Hai visto? In 20 centimetri d'acqua. Siamo già a livelli di papagnone. Ciao bello, grazie. Dove le esche artificiali lasciano a desiderare acqua troppo bassa, troppo limpida. Con le esche naturali in questo caso abbiamo usato le bacche di fitolac americana, subito, appena presentato. So, tak.